Sono arrivato qui sperando di dare una mano a cercare comunque di trovare una salvezza che comunque sappiamo che è difficile, però nulla è impossibile. Quindi cerco di mettermi a disposizione il più possibile per aiutare la squadra. Ma io credo che questo è un campionato in cui non devi mollare mai. Devi cercare di rimanere aggrappato il più possibile al gruppetto che lottano per la retrocessione. Sicuramente abbiamo un paio di partite dure, poi avremo anche noi i nostri scontri diretti. Sicuramente ci giocheremo tante in quelle partite, ma dobbiamo lottare fino alla fine perché può succedere sempre di tutto. Il campionato di Serie A fino alla fine ti può regalare emozioni come mi è già capitato. Quindi devi cercare di rimanere aggrappato fino alla fine e poi tirerai le somme.